Terminato il grande fratello VIP 5, Tommaso Zorzi ha preso parte a diverse trasmissioni televisive Mediaset, dove ha avuto modo di raccontarsi post-vittoria al reality show condotto da Alfonso Signorini. Tuttavia, Zorzi non si è mai presentato nei programmi di Barbara D'Urso. Il vincitore del GF VIP non ha mai preso parte ai programmi della Signora del Pomeriggio Mediaset e in una recente intervista ha lanciato una presunta frecciatina, ammettendo di aver dovuto fare una cernita. Ieri sera, invece, Tommaso ha preso parte alla prima puntata della nuova stagione del Maurizio Costanzo Show, il celebre talk show di seconda serata di Canale 5 condotto da Costanzo. Ai programmi di Barbara D'Urso, però, Tommaso non ha mai preso parte e in tantissimi si sono chiesti il perché di questa scelta, visto che gli studi di Live e Pomeriggio 5 si trovano proprio a Milano, città in cui il vincitore del GF VIP vive da diversi anni. In una recente intervista, Tommaso ha ammesso che in queste settimane post-vittoria al reality show di Signorini, ha dovuto dire dei no. Non sto andando in tutte le trasmissioni che mi stanno chiamando, devo fare una cernita, ha ammesso Zorzi che, in questo modo, potrebbe aver lanciato una sottolinea frecciatina proprio a Barbara D'Urso, dato che all'appello mancherebbero soltanto i suoi programmi.